Musica 5, 4, 3, 2, 1, vai 4 destra in 5 destra alla casa per 4 sinistra su 6 destra 80 6 sinistra sul dosso, su 2 sinistra scivola 100 sinistri, 3 destra, 50 4 destra in 5 sinistra, 80 5 sinistra media in 4 destra sul dosso, 200 rosso sinistra destra per 3 destra al palo 3 destra al palo, 50 dosso in 3 più sinistra, 50 5 destra, 80 6 destra in ritarda 2 sinistra per 6 destra media 50 al bivio 1 sinistra e destra dosso, 50 molta attenzione, 6 destra in stop destra su 1 sinistra scivola tanto qua tutto all'inizio prova e 5 destra in 2 destra, attenzione sporco 50 1 meno destra 100 sinistri 1 sinistra per 2 più destra aspetta c'è la scala uscita al 2, 2, 2 2 più destra 80 1 destra per 3 sinistra 150 5 destra in 4 meno sinistra in 4 destra media e 3 sinistra in 3 destra media 50 6 destra in 6 sinistra per 4 destra 50 4 sinistra su 5 destra stop 3 sinistra per 2 sinistra scivola troppo qua 80 sinistri ripeto 80 sinistri stop 4 sinistra su 3 destra per 4 destra in 5 sinistra in 5 destra media per 4 destra si 80 sinistri ripeto 80 sinistri al palo 3 destra si in ritarda 1 meno sinistra 50 3 sinistra in tornante destro sporco molta attenzione 80 alle case sinistra 6 in 4 destra 50 5 sinistra e al bivio 2 sinistra 50 e al bivio 2 sinistra 50 4 sinistra 150 4 destra 4 destra sporco 50 al cartello 6 sinistra per 5 sinistra e 5 destra chiude 4 al palo per 5 sinistra 100 5 sinistra in 3 più 3 più destra si 30 30 dosso 50 sinistra e 6 sinistra in stop 6 destra e 3 sinistra e 3 sinistra su 2 destra sul ponte 100 sinistra 50 1 sinistra 50 6 destra in 1 destra 50 50 6 sinistra 150 in fondo destra 80 e poi al palo 3 più sinistra 50 2 destra e 6 sinistra in 5 destra 100 sinistri alla fettuccia 3 destra su 4 meno sinistra per 3 sinistra 100 3 più destra 50 ai bidoni stop 5 sinistra su 1 destra in 4 sinistra per 3 sinistra media 50 50 150 3 destra 150 150 150 ai bidoni 6 sinistra 80 80 80 3 destra in 4 sinistra 2 tempi mancano 2 km e mezzo 2 tempi per 5 destra in 6 sinistra 80 80 3 più destra 80 stop 4 destra in 2 sinistra 80 80 3 più destra 80 1 sinistra per 2 più destra 100 a rovescio 5 destra 50 attenzione 2 destra sporco 2 destra sporco e ai cartelli 3 sinistra 50 poi 6 sinistra 80 4 destra in 3 sinistra per 5 destra per 3 destra 3 destra in 3 sinistra 3 sinistra 50 3 destra 80 4 sinistra e tornante destro ripeto 4 sinistra e tornante destro in 2 meno sinistra media e 6 destra per 4 sinistra per 3 destra 50 50 al palo sinistra sul dosso 150 destra e fine prova dopo i cassonetti voilà voilà Grazie.